Guardate, io prendo la parola in un momento peculiare, no? È venerdì santo, in questo momento al Colosseo c'è la via Crucis del Papa, in questo momento nel mondo c'è una via Crucis che dura dal 24 febbraio e che non sappiamo quando finirà. Una via Crucis delle menti, dei cuori, delle speranze. E tutto questo, a mio avviso, impone lucidità, cioè come reagire a questo momento apocalittico, sia nel senso di catastrofico, apocalittico, catastrofe, sia nel senso di rivelativo, perché apocalisse, apocalipto, nel significato originario significa smascherare, denudare. Quindi l'Apocalisse è una rivelazione, e quando si dice momento apocalittico, sì, lo si può intendere nel senso dell'Apocalypse Now, della catastrofe globale, oppure nel senso della rivelazione, dello svelamento. Cosa si svela? Ma quello che già è svelato da tempo, cioè la contraddizione dell'essere umano, la sua capacità di cattiveria, di male, di perfidia, di una violenza cieca, e al contempo, nello stesso momento, la sua capacità di bene, la gente che si sacrifica, la gente che porta cibo, vestiti medicinali, come sempre, come quando avviene un terremoto, noi italiani purtroppo ne sappiamo qualcosa, in quello stesso momento hai lo sciacallo che entra nella casa per rubare quello che può trovare, e chi rischia la vita per tirare fuori chi è rimasto sotto le facerie. E anche in questo momento, che appunto è un momento, un momento di guerra, così emergono i migliori e i peggiori degli uomini, e quindi che cosa occorre fare? Secondo me, occorre lucidità, guardare, e per quanto è possibile mettere a tacere le passioni, per quanto è possibile, e accendere la passione, la passione per la giustizia, per il vero, per ciò che è, per ciò che è giusto, per quanto è possibile, cercare, capire, distinguere. E per fare tutto questo, quel guazzabuglio del cuore umano, come diceva Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, parlando della nostra interiorità, voi come la chiamate, la vostra interiorità? Si può chiamare cuore, si può chiamare mente, si può chiamare coscienza, si può chiamare psiche, si può chiamare sé, ma si può chiamare, non so, in altri modi ancora. Per mettere ordine, perché possa avere la nostra interiorità, una luce che guida, e un'energia che la faccia camminare, occorre appunto una luce. è un'energia, appunto. E quando un essere umano trova una luce, è un'energia, cioè qualcosa che fa vedere, qualcosa che ti fa camminare, con tempo, vedi la meta, e hai l'energia, la voglia, il desiderio, il carburante per andare verso questa meta che vedi, anche quando magari senti che non ti conviene andare, ma vai, vai, perché... ecco, quando un essere umano ha questo, ha una spiritualità. E io penso che il nostro tempo abbia un enorme bisogno di spiritualità, proprio per il momento rivelativo di sconfitta, di tante cose, il rischio è la cattiveria, sapete, la cattiveria. Cattiveria, la prigionia della paura, la rabbia, la violenza, proprio quella violenza banale, non banale, voglio dire quotidiana, che poi a poco poco cova, cova, e poi esplode. Il rischio è proprio così, la cattiveria nel senso della prigionia, della prigionia del cuore, della mente, cioè ci vuole qualcosa che liberi. Tutto questo lo dico, uno, per situare il discorso che adesso vado a fare su Gesù, e due, per, come dire, per spiegare quello che è la mia intenzione nel proporre quello che io vi dico adesso, che è un'intenzione di estrema sincerità. Estrema sincerità. E dicendo sincerità, io penso a una grande figura spirituale che per la mia vita gioca un ruolo importante da tanti anni ormai, che è Albert Schweitzer, che come tutti voi sapete fu tante cose, filosofo, teologo, studioso dei Vangeli, il libro di Schweitzer sul Gesù storico, è un libro che ha segnato proprio una fase decisiva della ricerca su Gesù, medico, lasciò la cattedra, lasciò gli studi filosofici e teologici nel senso professionale del termine, studiò malattie, si laureò in medicina specializzandosi in malattie infettive dell'Africa equatoriale e a Lambarané fondò un ospedale che ancora c'è di eccellenza. Gli diedero per questo il premio Nobel per la pace. Albert Schweitzer è anche un'ultima cosa, era anche un sublime esecutore della musica per organo di Johann Sebastian Bach. E lui diceva la sincerità è il fondamento della vita spirituale. La sincerità è il fondamento. Proprio perché ci possa essere quella spiritualità, ovvero quella fonte, quella fonte per la nostra interiorità di luce e di calore, di visione e di energia al contempo, perché ci possa essere, occorre essere sinceri, sinceri, sine c'era, come si diceva del miele, gli antichi dicevano del miele, o anche delle statue, che erano sine c'era, non c'era, ecco. Cosa intendo dire Gesù diverso da Cristo? Non intendo dire che Gesù è buono e Cristo è cattivo. Non intendo dire che Gesù è vero e Cristo è falso. Intendo dire che si collocano su piani diversi. Il primo, il piano di Gesù è il piano della storia e il piano di Cristo è il piano della spiritualità. Possiamo dire spiritualità? Possiamo dire, sì, possiamo dire spiritualità, possiamo dire anche filosofia, possiamo dire anche mitologia, non nel senso come si dice negativo con cui di solito si usa parlare della mitologia contrapponendola alla storia, ma è un mito, guarda, è un mito, quindi è una cosa che non esiste. No, non in questo senso, ma mitologia come modalità di disporre il pensiero per cercare la verità dentro o sopra della storia, dentro o sopra, non lo so, uno dice, ma è dentro e sopra, non è la stessa cosa, ma è un po' come quando uno prega Dio, ci sono quelli che pregano Dio così, Padre nostro che sei nei cieli e lo cercano sopra la storia, l'Eterno, e ci sono quelli che invece quando pregano fanno così. Prega il Padre tuo nel segreto, Gesù dice tutte e due le cose, se vuoi pregare e non fare come i pagani che sprecano parole, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che abita nel segreto ti riconoscerà. Che cos'è questo segreto? Crypto si dice in greco, crypto, crypto, la crypto, interiore, l'interiorità, appunto, l'interiorità, la coscienza, il cuore, l'anima, lo spirito, il sé, il sé vero che è diverso dall'ego come diceva anche Jung, no? un conto è l'ego psichico e un conto è il sé e noi forse siamo chiamati a questo, a diventare noi stessi, a raggiungere il nostro vero sé, convertendo poco a poco l'ego psichico. Vedete, dicendo Gesù diverso da Cristo, io anzitutto devo motivarla questa cosa perché noi ci troviamo al cospetto di una tradizione che dura da duemila anni dove invece Gesù è uguale a Cristo, è evidente, no? Gesù Cristo, anzi io l'altro giorno prendevo in mano un dizionario di teologia della fine del Settecento, dizionario portatile di teologia, allora si chiamava così, e alla fine del Settecento leggevo una voce e mi sono imbattuto in come scrivevano Gesù Cristo, lo scrivevano proprio così, Gesù Cristo, tutto attaccato, quindi altro che separazione, è la stessa cosa, tant'è che anche i libri di studiosi importanti, uno degli ultimi libri su Gesù che ho letto è il libro di uno dei più noti biblisti europei, Gianfranco Ravasi che è stato mio professore, io su questo libro l'ho anche intervistato per il Sette, il Corriere della Sera, quando collaboravo con Sette, il Corriere della Sera, qualche mese fa, perché adesso faccio un'altra cosa da quel punto di vista, e se voi leggete questo libro vedete che un eminente biblista, uno degli uomini più colti che io conosca, ebbene, Ravasi, a volte dice Gesù, a volte dice Cristo, come sinonimi, indifferentemente, non parliamo di quelli che pensano che ci sia in uno il nome e l'altro il cognome, ma noi invece, lo sappiamo tutti, è inutile ribadirlo, però insomma non si sa mai, Gesù è il nome, effettivo il nome, o meglio l'italianizzazione del nome, mentre Cristo è un titolo, è come dire Gustavo è come dire Presidente, Presidente è un titolo, Gustavo è il nome proprio, e questo titolo Gesù, a quanto pare, questo lo dicono la gran parte degli studiosi, lo sostiene, il titolo Cristo Gesù non l'applicava a se stesso, altri hanno detto di Lui tu sei il Cristo e Cristo vuol dire unto, dice unto, no, unto nel senso dell'unzione regale ovviamente, dell'olio con cui si ungono i re e quindi il Messia e quindi dire Cristo vuol dire Gesù il Messia, l'atteso, l'atteso delle genti, l'atteso dei popoli, quindi già qui c'è una certa differenza, capite? però io proseguo nella differenza, perché andando a sostanzialmente sottolineare questo, che se voi leggete i Vangeli con criticità, voi vi imbattete in un progressivo, in una progressiva perdita di importanza di Gesù e in una progressiva acquisto di importanza da parte di Cristo. Voi vi imbattete in una costruzione, in una progressiva costruzione. Siccome è il Venerdì Santo, io vorrei adesso con voi concentrarmi sulla morte di Gesù, brevemente per argomentare la tesi che ho detto devo argomentarla. ora se voi prendete il Vangelo di Marco devo prendere anche adesso perché volevo portare la Bibbia poi ho pensato ma no fotografo le pagine è così se voi prendete il Vangelo di Marco per esempio voi vedete che leggendolo con attenzione voi vedete un uomo che non voleva morire che dice padre se è possibile passi da me questo calice Luca nel suo Vangelo gli fa sudare sangue vedete un uomo che viene catturato ma viene catturato e viene preso grazie al bacio a un segno un segno preciso che uno dei discepoli dà a coloro che arrivano uno dei discepoli che tutti voi sapete essere giuda e scariota dà un preciso segno quello che bacio sarà lui prendetelo se voi leggete il Vangelo di Marco trovate questo e vedete Gesù che muore con il senso della sconfitta perché le ultime parole secondo il Vangelo di Marco sono Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato e non serve a molto dire che sono le parole come qualcuno dice molti dicono un po' per parare il colpo di questo segno di disperazione di sì ma sono le parole di un salmo il salmo 22 che poi invece finisce in gloria perché tutti i salmi finiscono in gloria ma scusate i salmi sono 150 e com'è che a Gesù viene in mente proprio questo per dire questo incipit dell'abbandono poteva dire padre nelle tue mani affido il mio spirito che pure è un salmo come infatti gli fa dire il terzo evangelista primo evangelista Marco primo in ordine cronologico fa morire Gesù dicendo mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato il secondo Matteo mio Dio mio Dio perché mi hai abbandonato il terzo padre nelle tue mani affido il mio spirito capite che è diverso è tutto evidente il primo è un segno di abbandono quest'altra è di fiducia e adesso poi vedremo il quarto come cambia le ultime parole di Gesù e poi morire da solo nudo e solo e tutti lo abbandonarono solo non c'è nessuno ai piedi della croce se voi leggete il Vangelo di Marco trovate questo ma se anche se anche se leggete Matteo anche se leggete Luca non c'è nessuno ai piedi della croce e poi anche se un'altra cosa che ho dimenticato che la riprendo adesso è che non dice neanche una parola non dice neanche una parola di fronte alle autorità sia a un certo punto proprio alla fine proprio costretto dal dal sommo sacerdote dirà quelle parole che dopo vi dirò ma giusto alla fine quasi costretto ti supplico di se sei il figlio di Dio e allora Gesù risponde dicendo qualcosa ma se no tace e invece se voi leggete il quarto Vangelo l'ultimo in ordine cronologico il Vangelo raffigurato vi ricordate qual è il simbolo dell'Evangelista Giovanni come viene con l'aquila l'animale che vede più lontano più profondamente lucidamente di tutti e che vola più in alto ah pensate quanti stati hanno l'aquila nei loro stemmi perché l'aquila è forte l'aquila è rapace anzi addirittura l'aquila bicipite non un becco ma due cioè pieno degli stemmi anche la Russia l'aquila la Russia degli zar ma già prima l'impero romano aveva le legioni avevano l'aquila e la Prussia aveva l'aquila e l'Austra Ungheria aveva l'aquila chi di voi non vorrebbe essere un'aquila è bello sei sopra domini arrivi piombi vedi tutto controlli blitzkrieg l'aquila e il quarto vangelo dice invece che Gesù voleva morire era l'agnello di Dio fin dall'inizio ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo l'agnello di Dio lui lo sapeva di essere l'agneus day e continua a ripetere nel quarto vangelo che c'è un'ora donna non è ancora giunta la mia ora dice alla madre a Cana e poi invece quest'ora poi è giunta l'ora come dire sono venuto per quest'ora e quest'era l'ora l'essere sacrificato come l'agnello lui che era l'agnello è venuto per compiere esattamente ciò che l'agnello nella cultura del templare del tempio l'agnello sacrificale è deputato a fare cioè essere sgozzato immolato ma non è una sconfitta questo non è una sconfitta è una vittoria e infatti non muore solo Gesù non muore solo ma muore con quattro donne ai piedi della croce tre si chiamavano Maria una non viene nominata e non c'è il nome e una ovviamente la Madonna poi Maria di Cleopo poi la Maddalena e poi e e e e poi il discepolo amato il discepolo che gli amava che ricorre solo nel quarto Vangelo figura misteriosa chi sarà mai e perché gli altri tre non lo dicono boh ah e poi un'altra cosa risponde Gesù Gesù di Giovanni risponde a Pilato sommo sacerdote e tiene testa tant'è che se voi leggete il testo vedete che a un certo punto non gli da uno schiaffo così rispondi al sommo sacerdote ma noi dovremmo adesso metterci qui leggere i testi approfondire argomentare non si può fare tutto questo però posso leggervi la cattura di Gesù secondo Marco e la cattura di Gesù secondo Giovanni primo e ultimo Vangelo così voi stessi vi rendete conto e state attenti a Giuda dico notate Giuda allora l'angelo di Marco e subito mentre ancora siamo al capitolo 14 versetto 43 seguenti e subito mentre ancora parlava arrivò Giuda uno dei dodici e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti dagli iscrivi e dagli anziani chi lo tradiva aveva dato loro questo segno quello che bacerò e lui arrestato e le conducetelo via sotto buona scorta allora gli si accostò dicendo rabbì e lo baciò essi gli misero le mani addosso e lo arrestarono questa è la narrazione dell'arresto di Gesù secondo Marco capitolo 14 la traduzione è quella ufficiale quella della conferenza episcopale italiana che a volte bisogna rivedere ma comunque andiamo pure avanti Giovanni capitolo 18 detto questo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron dove c'era un giardino nel quale entrò con i discepoli anche Giuda il traditore conosceva quel posto perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli Giuda dunque preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei si recolà con lanterne torce e armi Gesù allora conoscendo tutto quello che gli doveva accadere si fece innanzi e disse loro chi cercate gli risposero Gesù il Nazareno disse loro Gesù sono io vi era là con loro anche Giuda il traditore appena disse sono io indietreggiarono e caddero a terra domandò loro di nuovo chi cercate risposero Gesù il Nazareno Gesù replicò vi ho detto che sono io se dunque cercate me lasciate che questi se ne vadano e questi sono i discepoli fine dov'è il bacio di Giuda non c'è il bacio di Giuda non c'è bisogno è lui che si capisce capite la differenza la differenza netta il primo Gesù è tradito tradito tramite un bacio e non è il padrone della scena il padrone della scena sembra essere Gesù è Giuda che lui controlla tant'è che dice è lui vi faccio il bacio il Gesù del quarto Vangelo è lui il padrone della scena certo il quarto Vangelo non poteva omettere perché si parlava non poteva omettere del tutto il ruolo del traditore li porta lì ma poi il vero e proprio protagonista è Gesù uno è Gesù l'altro è Cristo uno è è l'uomo Gesù che dice padre se possibile passi da me a questo calice che suda sangue che non vuole morire e l'altro è il Cristo che è infatti come muore quali sono le ultime parole di Gesù del quarto Vangelo tutto è compiuto avevo una missione da compiere l'ho compiuta certo non fa così come i piloti americani I did it però il senso è questo cioè sono parole di vittoria capite non sono parole di sconfitta sono già parole di trionfo già sulla croce se noi avessimo tempo e beh noi dovremmo continuare a fare questo lavoro per esempio sulla nascita se voi leggete il Vangelo di Marco non parla della nascita della nascita parlano Matteo è Luca e Giovanni a suo modo nascita in cielo è in archeno logos in principio è il logos questa è la nascita generato dal padre generato non creato Matteo e Luca parlano della nascita Marco però Anpassan capitolo 6 versetto 1 dice che Gesù dopo essere stato a Cafarnao giunge va nella sua adesso mi viene voglia di controllare ma non posso farlo davanti a voi come traduce la cei ma sono sicuro il testo greco dice va nella sua patris questa è la parola è patris e di solito viene tradotta ma sono sicuro che anche la versione nuova della cei va nella sua patria in realtà questo lo fa notare il più grande esegeta il più grande esegeta dell'infanzia di Gesù che si chiama Raymond Brown il più grande studio condotto sulla nascita di Gesù è opera di questo biblista di un biblista americano il cui nome è Raymond Brown il testo è tradotto in italiano la cittadella ormai da diversi anni studiavo ancora io quando c'era e dice appunto Brown che Patris non è patria ma è città natale anche perché lui era già nella sua patria era Cafarnao Cafarnao è in Galilea è chiaro che la Galilea è la sua patria quindi non ha senso dire è come uno che è di Misano Adriatico e va a Riccione non è che dice va nella sua patria la patria anche Riccione è sempre patria va nella sua città natale quindi dice Brown e ha perfettamente ragione è onesto non vuol far tornare i conti è onesto vede le cose come sono e dice c'è una prova positiva del fatto che il Vangelo più antico dica che la patria di Gesù cioè la città natale di Gesù scusate è Nazareth poi siccome c'è tutta una teologia dietro per cui era Betlemme la patria del Messia se tu dici che Gesù è il Cristo cioè il Messia allora il Messia atteso doveva nascere a Betlemme di Giudea secondo la profezia di Michele allora è chiaro che gli evangelisti hanno costruito questi racconti facendo nascere Gesù a Betlemme tra l'altro l'hanno fatto in una maniera che non è possibile concordare in maniera contraddittoria perché perché se voi leggete Matteo sapete sapete il punto qual è è che noi abbiamo nella nostra mente una grandissima confusione perché è come se avessimo i quattro Vangeli tutto un formato così che già dal presepe da tante cose per cui tutto si mischia invece noi dovremmo leggere un Vangelo poi l'altro Vangelo poi l'altro ricordare e dire ma com'è questo dice una cosa questo dice questa com'è e diventa interessantissimo se per esempio voi leggete il Vangelo dell'infanzia di Matteo voi vedete vi imbattete in che cosa ma vi imbattete nel fatto che Gesù nasce in casa l'Evangelista dice Gesù nasce nella sua casa lo fa nascere in casa e poi e poi siccome c'è Erode che lo cerca perché arrivano i re magi e tutto Erode lo cerca lo cerca perché ha saputo che nascerà il re di Giudei e allora l'angelo dice a Giuseppe prendi tuo figlio e vai in Egitto così lo salvi e vanno in Egitto e solamente quando poi Erode morirà l'angelo dice puoi tornare e vanno a Nazareth ok se invece voi leggete Luca sì sì va bene questo complica ancora di più le cose ma va bene è vero è vero infatti Gesù nasce nel 4 avanti Cristo come minimo quindi già lì ma adesso non si può dire se voi leggete Luca invece vedete che è tutta un'altra cosa Gesù nasce a Betlemme perché perché c'era un censimento di cui Matteo non parla per nessun motivo e quindi non ha casa nasce in una un posto dei pastori in una mangiatoia e poi c'è Erode che lo sta cercando che i bambini no proprio per niente poi tranquilli vanno nel tempio di Gerusalemme cioè a casa di Erode e lo portano nel tempio fanno la presentazione del tempio e c'è Simeone che lo prende prende in braccio il bambino e dice ora lascia il Signore che vede finalmente Messia e dice ora lascia il Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli eccetera eccetera e anche Anna dice questo non c'è nessuna minaccia difficile mettere insieme no non è che è difficile è impossibile metterli insieme la famiglia di Gesù Cristo era figlio unico Gesù aveva quattro fratelli e lo dice Marco se voi leggete l'Evangelo di Marco c'è quattro fratelli e i nomi si sanno Giacomo Giuda Simone Ioses e alcune sorelle siccome le donne contavano a differenza di oggi meno degli uomini oggi invece contano di più non è vero non lo so ma non volevo fare la per fortuna insomma comunque certamente abbiamo lasciato questi tempi maschilisti li stiamo lasciando diciamo così li stiamo lasciando e le sorelle non vengono ricordate però è plurale quindi vuol dire che come i miei erano sei poi c'è tutta la lettura che dice eh ma no c'è scritto fratelli ma in realtà intendeva cugini però il greco aveva il termine per dire cugino e se scrive Adelfos vuol dire fratello altrimenti avrebbe scritto come si dice cugino nepsios adesso non mi viene in mente ma c'è un termine ovviamente per dire cugino e il Nuovo Testamento lo conosce perché quando Paolo si parla di Barnabas si dice cugino e si usa esattamente quel termine lì nepsos o qualcosa del genere quindi gli scrittori del Nuovo Testamento conoscevano Luca conosceva se voleva dire cugini diceva cugini invece ha detto fratelli Gesù aveva quattro fratelli Gesù ancora ancora un'altra cosa diceva ai suoi discepoli non andate dai pagani io sono venuto ad annunciare solo il Vangelo solo per le pecore perdute della casa di Israele a Gesù non interessava il Vangelo ai pagani Gesù interessava la conversione di Israele a che cosa adesso poi lo vediamo tant'è che quando la donna uno dei a proposito di donne qui è veramente la protagonista è questa donna pagana cananea sirofenicia che parlava greco probabilmente e Gesù forse un po' di greco lo capiva forse o gli traduceva ma nessuno dice che traducevano a quel livello si intendevano io penso che un po' di greco lo capisse perché era carpentiere lavorava il legno e non lavorava il legno nel senso che stava Nazareth nella sua bottega ma andava sui cantieri e a pochi chilometri da Nazareth c'era Sipporis la città che viene fatta ricostruire da Erode Antipa per fare la sua capitale quindi c'erano maestranze architetti ellenisti e lui probabilmente lavorò lì prima della vita pubblica e quindi parlava anche un po' di greco magari anche un po' di latino il latino magari no ma il greco sì e comunque con la donna Sirofinicia si intende la donna Sirofinicia gli dice cosa gli dice vi ricordate Matteo 15 cosa dice di guarire sua figlia gli dice gli chiede perché sua figlia sta male e ha sentito che questo profeta dalla Galilea è un taumaturgo ha nelle mani qualcosa di speciale allora dice guariscimela e lui che cosa fa il Gesù buono cosa fa la guarisce subito no non la guarda neanche e allora lei continua e grida e non la guarda ancora non la guarda neanche e allora i suoi discepoli ma scusa rabbì ma non vedi che sta gridando e dice sono venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele ma poi lei continua ancora insiste e lui dice non è giusto prendere il pane che hai per i figli e darlo ai cagnolini c'era la bambina che stava male va bene c'era la bambina che stava male e non è giusto prendere il pane e darlo a un cagnolino così la chiama e la donna ero eroina veramente grandiosa che si umilia e dice è vero signore sono un cane siamo cani noi pagani è vero però qualche volta qualche briciola cade anche dal tavolo e i cani si brillano solo a questo punto Gesù dice ah ma questa veramente ha fede in me ci crede ma solo a questo punto e guarisce e invece Cristo dice andate in tutto il mondo battezzate tutte le genti nel nome del padre e del figlio in tutto il mondo annunciate capite la differenza c'è proprio e tanti altri esempi si potrebbero fare ma cosa voleva Gesù Gesù nel senso proprio Yeshua Yeshua cosa 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 voleva lui Gesù questa è la mia profonda convinzione scusate io ho pasticciato un po' gli appunti perché ho rifatto tutto ecco Gesù voleva annunciare a Israele che stava arrivando qualche cosa che avrebbe cambiato completamente la storia del mondo la storia del mondo era in mano a delle persone inique era in mano a delle ipotentati Paolo ne parla poi dopo ne parlerà ma se parlano così è perché Gesù diceva già lui queste cose Paolo ne parla i dominatori di questo mondo di tenebra il quarto Vangelo dice che il principe di questo mondo o anzi il testo greco è o arkon tu kosmu tu tu arkon 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 è colui è l'arche in greco è il principio caput il principio e quindi arkon è il comandante il comandante il capo di questo mondo chi è il capo di questo mondo è Satana e ricordate la scena delle beatitudini scusate delle tentazioni quelle di cui Dostoevsky scrive che in queste tre domande di Satana è contenuto il segreto del mondo nella terza di queste lo porta su un cima a un monte gli fa vedere tutti i regni del mondo Satana a Gesù e gli dice vedi questo vedi il mondo vedi le banche le vedi le fabbriche le industrie i parlamenti lo vedi tutta questa potenza bene tutto questo è stato dato a me e io lo do a chi voglio così dice nella terza tentazione secondo Luca se mi adorerai ecco Gesù era convinto di questa cosa che il mondo era nelle mani dell'iniquità che il mondo come diceva Amleto vi ricordate alla fine del primo atto Shakespeare dice il mondo the time is out of joint il tempo è fuori dai cardini il tempo ma il tempo storico la storia è uscita dai cardini è uscita dai binari dalla sua regolarità siamo nelle mani di assassini siamo nelle mani di briganti siamo nelle mani di farabutti non c'è più un legittimo comando non c'è più un re non c'è più Dio che tiene in mano e Gesù da profeta e questo gli veniva questa convinzione dal suo maestro da Giovanni il Battista che aveva cominciato con forza questa predicazione era convinto che qualcosa sarebbe avvenuto e questo qualcosa che era avvenuto era il fatto che Dio sarebbe tornato a essere il re e quindi annunciava il regno di Dio il regno di Dio non è l'iperuragno di Platone il regno di Gesù il regno di Dio di cui parla Gesù non ha niente a che fare con l'iperuragno di Platone Platone era convinto secondo me giustamente che il bene e la giustizia nella loro purezza non avrebbero mai avuto una sede qui sulla storia il bene e la giustizia esistono per Platone altro che ma in una dimensione che è necessariamente iper storica infatti parlava dell'iperuraneo del regno delle idee e diceva che tutto il senso della filosofia è imparare a morire cioè imparare a morire all'egoità all'ego psichico per fare che cosa è per essere adatti a entrare nel regno delle idee nella purezza del bene io condivido questa del tutto questa visione che è di Platone che è anche di Kant e di altri Wittgenstein Wittgenstein diceva la soluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo è al di là nello spazio e del tempo io lo so anche in tedesco ma vi risparmio la mia pronuncia però lo so anche a memoria in tedesco e e questo al di là außerhalb von Raum und Zeit questo al di là del tempo e dello spazio questo außerhalb nel Tractatus Logico Philosophicus 6.4312 dove si trova questa citazione questo außerhalb è scritto in corsivo da Wittgenstein e Wittgenstein scrive queste cose poi il Tractatus viene pubblicato nel 21-22 ma scrive queste cose in vari appunti mentre si trovava nelle trincee della prima guerra mondiale volontario dell'esercito austro-ungarico fronteggiando la più grande offensiva dei russi l'offensiva Brusilov e lì intuisce al cospetto della storia e delle baionete del sangue e di tutto quello che potete immaginare essere la guerra e noi lo vediamo oggi per fortuna lo vediamo solamente a distanza che cos'è la guerra e lì sente Wittgenstein quello che aveva sentito Platone cioè che la salvezza è solamente außerhalb von Raum un Zeit al di là del tempo e dello spazio la soluzione dell'enigma della vita nel tempo e nello spazio Gesù invece da ebreo qual era non era metafisico non aveva questa dimensione così pensava che il regno di Dio sarebbe avvenuto nella sua stessa vita questo è il messaggio di Gesù Gesù era un profeta Gesù era un profeta apocalittico a proposito di apocalisse intesa esattamente nei due significati di cui ho parlato all'inizio catastrofe e svelamento e lui era convinto che che doveva che appunto arrivava questo cambiamento quindi convertitevi convertitevi credete perché poi non ci sarà più tempo poi ci sarà ci sarà stridore di denti ci saranno lacrime poi poi arriverà il castigo per chi per chi non si è convertito e siccome era buono Gesù era fondamentalmente buono non Gesù buono buonista ma misericordioso amava veramente la gente allora era preso da questa smania di voler andare in giro e salvare le persone dire convertiti perché se no per te è la fine e andava soprattutto da coloro che erano più in pericolo dai peccatori certo i pubblicani le prostitute le persone che appunto vedeva maggiormente in pericolo allora che il regno di Dio adesso sentite bene questo passaggio che il regno di Dio sia l'annuncio di Gesù è la profonda convinzione di tutti gli studiosi voi prendete in mano un testo come si dice di degno di questo nome e voi vedete che tutti dicono che il centro del messaggio di Gesù è il regno di Dio da Ratzinger a Mauro Pesce per dire l'estrema destra Ratzinger e Mauro Pesce quello che ha fatto insieme a Augeas l'inchiesta su Gesù uno degli studiosi più importanti del Gesù storico non solo del nostro paese ma direi insomma veramente a livello mondiale tutti sono convinti che il regno di Dio è il centro dell'annuncio di Gesù ma la differenza qual è? la differenza è che non tutti sottolineano che è una cosa decisiva e cioè che Gesù era convinto che il regno di Dio sarebbe venuto nella sua stessa vita che era una venuta imminente qualcosa che doveva succedere da un momento all'altro come faccio io a essere sicuro di quello che vi sto dicendo? perché lo dicono i Vangeli adesso vi leggo alcune affermazioni riportate dai Vangeli e attenzione i Vangeli tutti voi sapete che non vengono scritti non sono la cronaca cioè Gesù parla e dietro c'è l'Evangelista che stenografa vengono scritti diversi anni dopo il primo Vangelo il primo il più antico di solito viene collocato dagli studiosi diciamo nella gran parte il mainstream già nella gran parte di tutti gli studiosi viene collocato il Vangelo di Marco che è il più antico verso 70 Gesù muore nel 30 probabilmente il 7 aprile del 30 40 anni due generazioni 40 anni sono tanti sapete 40 anni è il primo poi si arriva Marco e Luca 10 anni dopo Giovanni si discute c'è chi lo colloca al 90 c'è chi lo colloca addirittura più in là ma insomma bene detto questo adesso ascoltate queste frasi che secondo me sono la prova di quanto ho detto sono la cosa ho detto io che Gesù era un profeta apocalittico cioè convinto che sarebbe arrivato il regno di Dio nella sua stessa esistenza che l'avrebbero visto questo regno di Dio in verità io vi dico non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga ha appena parlato degli sconvalgimenti del regno di Dio e dice in verità non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga questo detto è riportato da tutte e tre i Vangeli Sinottici Giovanni ovviamente no ma tutte e tre i Vangeli Sinottici lo riportano quindi una triplice attestazione Marco 13-30 Matteo 24-34 Luca 21-32 ma andiamo avanti secondo detto in verità io vi dico non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo qui si discute chi è questo figlio dell'uomo ci sono coloro ci sono gli studiosi che pensano che il figlio dell'uomo sia stato che Gesù dicendo il figlio dell'uomo pensava a se stesso quindi di lui che torna nella gloria ci sono quelli che dicono no lui non pensava a se stesso pensava alla figura di cui parla il profeta Daniele cioè colui che avrebbe effettivamente inaugurato il regno di Dio di cui lui era il portavoce va bene tanto non lo sapremo mai quello che adesso è importante in verità vi dico non avrete finito lo dice i discepoli andate nelle città di Israele non dai pagani nelle città di Israele non avrete finito di percorrere prima che venga il figlio dell'uomo terzo detto in verità io vi dico vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza questo è Marco 9.1 Luca 9.27 e Matteo 16.28 anche qui triplice attestazione e ancora un altro detto in verità io vi dico tutte queste cose ricadranno su questa generazione e poi le parole che lui dice al sommo sacerdote quando il sommo sacerdote ti scongiuro davanti a Sinedo al sommo sacerdote dici se sei il Cristo e lui dice vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra delle potenze venire con le nubi del cielo non passerà questa generazione lo vedrete qualcuni non morranno quando i Vangeli vengono scritti non solo è passata quella generazione ma anche quella dopo sono passati quarant'anni due generazioni quando i Vangeli vengono scritti quei discepoli a cui Gesù si diceva voi non morirete erano morti questo cosa ci fa capire ci fa capire due cose ci fa capire ci fa capire che che queste profezie sono estremamente imbarazzanti e tuttavia sono contenute nei Vangeli cioè se i Vangeli se Gesù non avesse detto queste cose non so se riesco a spiegarmi se Gesù non le avesse effettivamente dette gli evangelisti mai e poi mai le avrebbero messe sulla sua bocca ci sono dei detti che per esempio le ultime parole di Gesù come muore Gesù quando Gesù dice padre nelle tue mani affido il mio spirito le ha dette non le ha dette noi ragionando da un punto di vista come dire di colui che si mette a scrivere questi testi e tenta di fare in modo che il suo Vangelo possa effettivamente diventare evangelizzante evangelizzatore possa convincere le persone è chiaro che queste parole sono funzionali al messaggio di Gesù chiaro? mentre queste parole no non sono funzionali per niente tant'è che il criterio dell'imbarazzo questo si chiama cioè di quei detti che sono imbarazzanti è il criterio ermeneutico numero uno usato da parte degli esegeti per comprendere quali sono i detti che sono maggiormente ascrivibili a Gesù siccome sono altamente imbarazzanti queste parole per gli evangelisti anche per i cristiani che le leggono perché insomma se lo capisco io quanti altre persone le capisco come non passerà questa generazione è passata è chiaro provoca imbarazzo ancora adesso se c'è qualche come dire cattolico iperconvinto qui dentro immagino e spero che ci sia un po' di imbarazzo ce l'ha dice ma com'è che Gesù ha detto queste cose ma allora si è sbagliato e si si è sbagliato e questo provoca imbarazzo ma questo significa che queste parole veramente le ha dette Gesù prima cosa seconda cosa che emerge la seconda cosa che emerge è che gli evangelisti non sono stati dei falsari perché se fossero stati dei falsari queste parole imbarazzanti non le avrebbero riportate o sentite dobbiamo vendergliela un po' questo mito questa cosa che dobbiamo dobbiamo no no gli evangelisti in fedeltà alle parole del maestro magari non le abbiamo capite o magari invece adesso arriva magari non era la prima magari la terza generazione ma le riportano provane sia che le prime generazioni cristiane e adesso vi cito un testo di Paolo che lo mostra continuavano a credere alla fine del mondo se voi leggete lo scritto più antico del Nuovo Testamento sapete qual è lo scritto più antico del Nuovo Testamento i libri del Nuovo Testamento sono 27 bisognerebbe leggerli in ordine cronologico e non in ordine canonico ma tante cose bisognerebbe fare che non si fanno bisognerebbe leggere in ordine cronologico ebbene il primo il più antico è la prima lettera di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi agli abitanti di Tessalonica quella che è l'odierna Salonico nel nord della Grecia ebbene se voi leggete questo testo tante cose si potrebbero ma vi imbattete fermiamoci pure qui a questa frase di Paolo prima capitolo 4 versetti 16 e 17 sentite cosa scrive Paolo questo testo è stato scritto tra il 49 e il 50 dicono gli studiosi quindi siamo a 20 anni dopo la morte di Gesù è ancora palpitante insomma la cosa è il testo più vicino al Gesù storico sentite cosa dice poi Paolo cambierà idea ma qui dice così il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo quindi noi che viviamo e che saremo in vita verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto cioè Paolo dice agli abitanti di Tessalonica è questione di poco state tranquilli noi stessi noi saremo ancora in vita quando lui tornerà cioè talmente la predicazione scatologica di Gesù era era stata intensa poi metteteci anche la risurrezione perché poi vi direte ma la risurrezione perché non parli della risurrezione poi ci arriviamo era stata così intensa che ancora nelle prime generazioni viveva tant'è che Paolo scrive queste cose poi vede col passare del tempo che non c'è nessuna parousia il termine tecnico è parousia cioè di venuta del Signore la storia va avanti la gente continua a morire e e allora cambia e nasce il cristianesimo con Paolo nasce il cristianesimo Gesù ovvero il gesuanesimo aveva un messaggio futuro legato al futuro la salvezza doveva venire era il cambiamento della storia la storia non sarebbe stata più in mano a a Erode non sarebbe più stata in mano a quei terribili giustizieri dei romani che arrivano ma sarebbe stata finalmente in mano a Dio sarebbe diventata il regno di Dio questo diceva Gesù siccome questo non è avvenuto e oggi la storia in mano ha fate voi i nomi Putin la Nato Erdogan Xi Jinping Modi in India scegliete il vostro non è che tanto e allora Paolo esattamente vede che la storia non cambiava che la storia non si rompeva che continuava e allora pone l'atto salvifico di Gesù nel passato cioè nella morte di croce costruendo la morte di croce come la liberazione dal peccato originale il cristianesimo consiste esattamente in questo nell'idea che la salvezza è già avvenuta mentre il gesuanesimo consiste nell'idea che la salvezza deve venire e è futura il cristianesimo consiste nell'idea che la salvezza è già avvenuta è vero che ancora oggi nella messa si dice annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta ma chi andando in chiesa alla messa dicendo queste cose attende veramente la venuta di Gesù ma forse i testimoni di Geova qualche volta annunciano la fine del mondo per il resto invece c'è proprio questa idea che la salvezza è avvenuta la salvezza è la liberazione dal peccato originale oppure la vittoria della morte Gesù che vince la morte risorgendo comunque è già avvenuta la salvezza ora noi dobbiamo un ulteriore passo che faccio io sarò lungo stasera ma è l'ultimo passo dobbiamo o meglio dobbiamo voi non so cosa dovete fare cosa devo fare io lo so io devo valutare come valutare questo passaggio dal gesuanesimo al cristianesimo come valutarlo è un tradimento secondo me no è un compimento vedete la storia tutte le storie sono destinate al fallimento anche noi anche la nostra vita mortale è destinata alla morte non c'è istituzione che abbia calcato la storia la storia antica che non sia fallita poi magari riprende ma sono falliti gli imperi sono falliti gli stati il nostro pianeta è destinato al fallimento persino il nostro il genere umano magari ancora prima se va avanti l'emergenza climatica la bomba atomica le testate nucleari ancora prima ma il nostro il nostro pianeta lo sappiamo che quando il sole si espanderà e diventerà una gigante rossa dicono tra 4 miliardi di anni qualcuno dice di meno qualcuno dice di più tanto comunque sono dimensioni cosmiche che ci possono ancora far riposare tranquilli ma insomma il nostro pianeta così come tutti i pianeti del sistema solare si liquifera come si dice insomma quando un calore immenso tutto destinato a fallire e anche e se ci pensate anche la risurrezione ecco che arriva la risurrezione anche ammettendo la risurrezione di Gesù la risurrezione di Gesù non è da intendere come una vittoria storica no no non è un evento storico la risurrezione di Gesù ma lo dico anche proprio da un punto di vista dogmatico di chi crede alla risurrezione non puoi se tu credi che Gesù è risorto non devi intenderla come un evento storico cioè come una come se il cadavere di Gesù fosse stato rianimato e lui avrebbe ripreso vita umana concreta così come era avvenuto per esempio a Lazzaro che lui aveva risorto aveva risuscitato dai morti quello è un evento ammesso che sia effettivamente accaduta ma quella così come viene raccontata è un evento storico perché Lazzaro da morto torna in vita e quindi mangia e quindi poi torna di nuovo a morire perché tutto ciò che appare nel tempo e nello spazio è destinato a essere consumato dal tempo e dello spazio la soluzione della vita dell'enigma nella vita nel tempo e nello spazio è al di fuori del tempo e dello spazio chiaro no? se voi intendete la risurrezione di Gesù come il ritorno nel tempo e nello spazio Raum und Zeit per citare Wittgenstein voi non avete a che fare con un evento salvifico avete a che fare con un evento che nel migliore dei casi fa proseguire per un po' di tempo la vicenda fino a che poi ci sarà comunque la consumazione come tutto ciò che è fatto di tempo e di spazio tutto ciò che è un inizio nel tempo e nello spazio ha una fine a causa del tempo e dello spazio è solo l'eterno se esiste io sono convinto che esista Platone è convinto che esiste Kant è convinto che esiste Hannah Arendt è convinta che esiste e Wittgenstein è convinto che esiste è solo l'eterno che ti dà la possibilità di uscire dal tempo e dello spazio e quindi di salvarti con che cosa si chiama anima spirituale si chiama cuore si chiama coscienza morale interiorità quella punta di noi quella quella è la cosa quindi anche ammettendo la risurrezione di Gesù la risurrezione di Gesù se voi aveste questo qui tutti voi ce l'avete no? e tutti voi avete la possibilità di fare le foto di fare i video no? più o meno oggi è obbligatorio se no il Green Pass come te lo controllano insomma dobbiamo averlo questa cosa ecco pensatevi muniti di questo aggeggio di fronte alla tomba di Gesù cosa riprendereste? ve lo dico io se è vero ciò che afferma il Vangelo cioè di un evento scatologico un bel niente non c'è il ritorno nella storia quindi anche ammettendo la risurrezione di Gesù la storia di Gesù rimane un fallimento come tutto quello che avviene nella storia a un patto cioè a un patto con un'eccezione che se tu nella storia lavori non per non sulla base della logica storica che è la storica dell'interesse della convenienza la logica del dominio della volontà di potenza ville zur macht la logica della guerra la logica di tutti quelli che fanno la guerra eccetera se tu non lavori su questa base su una base di questo ma lavori per un altro tipo di logica che è contenuta nel mondo come una promessa contenuta nel mondo come una promessa forse succede qualcosa succede che esci dallo spazio dal tempo con una parte di te forse Cristo Gesù è stato quello che è stato Cristo è un evento che attiva la coscienza morale il fatto che Gesù sia stato trasformato in Cristo vuol dire che è stato trasformato in un mito in un mito ma il mito non è da intendere come qualcosa di negativo è da intendere chissà se lo trovo perché io ho fatto confusione è quello che dice Salustio non Salustio lo storico ma Salustio con un L sola il filosofo neoplatonico eccolo qua che scrive nel quarto secolo dopo Cristo questa frase bellissima mezza riga ma di una bellezza parlando degli dèi parla degli dèi e dice ah voi non credete agli dèi non credete e dice così queste cose non avvennero mai ma sono sempre l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 è un evento storico è accaduto ma che cosa vuol dire che è storico che è fattuale va bene che è avvenuto e quante altre cose sono avvenute nella storia che ci siamo incontrati che io ho parlato qui che poi voi andrete a casa vostra che poi cose che accadono ma che cosa c'è di salvifico in queste cose sono fattuali sì vere nel senso di esatte fattuali concrete ma non vere nel senso della lezzia di qualcosa che svela della veritas come veritas che bellissimo il termine veritas siccome siamo in primavera il termine veritas viene da sapete come si dice in latino primavera si dice ver ver veris ed è la primavera la verità è ciò che fa fiorire la vita non è ciò che la fotografia io faccio la foto di questo orologio e dico questo è vero è un dato esatto ma la verità è ciò che fa fiorire la vita allora e concludo perché tante cose si potrebbero dire e mi fermo qui insomma il punto è che noi in questa storia dominata dalle potenze che sappiamo che sappiamo e le conosciamo ciascuno le nomini come vuole questi cosmocratori così li chiama Paolo nella lettera agli Efesini questi cosmocratori dominatori del mondo di tenebra poi aggiunge tenebra oppure li chiama anche Arconti appunto Arconti noi siamo al cospetto di questa storia e questa storia che macina tutto macina tutto macina animali piante esseri umani e sentiamo che cosa chi di noi lo sente sentiamo una tensione a volte verso la bellezza verso la giustizia verso la verità verso il senso il senso delle cose verso qualcosa che sia vero ma vero non nel senso di fattuale ma che non passi che sia giusto a cui poterci legare e dire ma se io tocco questa cosa divento migliore divento migliore più luminoso più bello di quella bellezza che comporte che compete agli esseri umani è l'umano nell'uomo di cui parlava Vassili Grossman questo straordinario scrittore ucraino nato a Berdicev ebreo che scriveva in russo ufficiale dell'armata rossa l'autore di vita e destino Stalingrado tutto scorre lo amo moltissimo e parlava dell'umano nell'uomo lui era ateo non credente ma sentiva l'umano nell'uomo che cioè che dentro ciascun uomo diceva c'è qualcosa di profondo di vero e che va custodito questo è ciò che gli faceva dire la vita non è il male la vita non è il male contiene male ma non è il male c'è qualcosa che se io vedo e proteggo io posso diventare migliore posso vivere bene bene nel senso per il bene posso essere vero ma di vero non è di esatto e di fattuale ma vero vero come un essere umano quel vero salvifico ecco Gesù è stato un uomo che credeva in queste cose diceva appunto beati i miti beati gli operatori di pace beati quelli che gli affamati di giustizia e credeva queste cose il cristianesimo ha custodito la sua maniera questo messaggio è giunto a noi dopo duemila anni secondo me ancora questo messaggio può creare quella reazione dentro qualcuno di noi per far sì che quella spiritualità di cui abbiamo bisogno che dicevo all'inizio per dare luce per dare calore una spiritualità che non è cristiana più cosa vuol dire cristiana vuol dire quell'idea che solamente in Cristo ci si salva ecco questo è il cristianesimo dogmatico tradizionale ufficiale a questa profonda convinzione che o sei battezzato nel sangue di Cristo o partecipi alla morte e alla risurrezione di Gesù perché quello è l'evento salvifico o non ti salvi la mia visione è diversa io penso che si salvano tutte le persone che aderiscono a quella logica di cui intravista da Wittgenstein a quella logica del bene a quella logica della giustizia a quella logica dell'amore che può essere può avere una forma cristiana può avere una forma buddista può avere una forma musulmana può avere una forma ebraica e la forma cristiana è la forma mediante cui è giunta a noi in questi 2000 anni insieme anche a altre cose ma è quella principale lo diceva Gustavo all'inizio non possiamo non dirci cristiani citando Benedetto Croce che era non credente è giunta a noi questa utopia concludo con una cosa che mi è venuta in mente adesso che ho già sicuramente citato qui sicuramente qui a Misano ma lo ridico perché va bene perché giusto perché mica bisogna essere originali necessariamente voi conoscete il libro dei morti dell'antico Egitto non avete sentito parlare è un libro che non ha scritto nessuno eppure c'è nel senso che o meglio ci sono tanti autori un po' pensate alle api ecco un libro millefiori come il Millefiori perché gli egizi credevano che subito dopo la morte l'anima sarebbe giunta al cospetto di Osiride e sarebbe stata pesata la famosa psicostasia la pesatura dell'anima o del cuore ma insomma l'interiorità quella cosa l'interiorità c'è la bilancia e la bilancia con i due con i due due piatti su un piatto il cuore o l'anima e sull'altro piatto la piuma di Maat la dea della giustizia e lì è al cospetto della giustizia che dicevano gli egizi noi saremmo giudicati e cosa c'entra il libro dei morti beh siccome credevano questo loro facevano un po' quello che abbiamo fatto anche noi da ragazzo da ragazzi prima dei compiti in classe anche voi avete fatto i fogliettini non è mai capitato compito di matematica o di latino di fare il fogliettino metterlo dentro nella penna o nel dizionario un fogliettino con quelle cose che ti possono aiutare in una situazione difficile va bene la stessa cosa facevano gli egizi dicevano guarda quando morirò nella mia nella mummia mettimi questo bigliettino qui dentro con questa formula perché magari poi arrivo lì al cospetto di Osir del mio emozione non mi impappino non so cosa dire allora tiro fuori il bigliettino e questi vari bigliettini sono stati raccolti e da lì il libro dei morti ebbene nel capitolo 125 c'è questa frase che io quando lessi ormai venti venticinque anni fa chi lo sa ricordo che mi si inumidirono gli occhi e i fremiti quando senti che dice così l'anima di fronte al Dio dice ho onorato Dio con ciò che egli ama ho dato da mangiare all'affamato ho dato da bere all'assettato ho dato un vestito a chi era nudo e ho dato una barca a chi non l'aveva perché queste parole mi portarono alla commozione ma perché mi ricordarono le parole di Matteo il vergelo di Matteo capitolo 25 quando Gesù dice che il figlio dell'uomo quando tornerà radunerà le persone li dividerà nei buoni e nei reprobi e ai buoni dirà venite benedetti dal padre mio perché avevo fame mi avete dato da mangiare eccetera non dice dalla barca perché Palestina Israele Giordano non ha bisogno della barca non è come il Nilo in Egitto invece ma sono le stesse parole e questo è l'atto salvifico e questo è l'atto salvifico è ciò che fa sì che l'anima possa essere pesata ed essere come si dice ritenuta giusta e giungere a quella condizione di cui Wittgenstein disseva Auserhalbe von Raum un Zeit al di là del tempo questa è la soluzione dell'enigma della vita nello spazio e nel tempo e questo ancora il cristianesimo può fare se viene vissuto in maniera adulta matura come io tento alla mia maniera di fare grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti